Gassan Sadatoshi, la cui famiglia fabbrica dei pezzi adatti che andranno nelle mani degli artigiani. I pezzi di artigiani arrivano dalle fonderie che distano 300 chilometri da qui. Dieci uomini hanno lavorato incessantemente per tre artigiani e tre notti, per ogni centimetro di acciaio. Sono questi strati che formano un pulmine di generazioni di mastri fabbri che hanno lavorato a cavallo dei secoli alla ricerca della riserva Boiello. Boiello, più di una pasta, un'arte del forgiare. Aga cure, è un testo classico che descrive cosa esattamente significa. Lavorare la punta è come indossare il trucco. Perché l'estremità di una spada è come un viso che si mostra al... Lavorare la punta è come indossare il trucco. Lavorare la punta è come indossare il trucco. Lavorare la punta è come indossare il trucco.